Finita! 2-0! Non pago la cena E non risponde oh Allora partita la faccio veloce perchè dobbiamo andare a mangiare fuori Quindi faccio un posto Allora l'Inter ha perso quindi siamo ancora più 18 Siamo ancora più 18 Ancora più 18 Sottolineo che Guarda sei un mostro Ha fatto un gol in mezzo a 5 persone E poi Blackman Ragazzi che gol Oh Vabbè comunque no a parte gli scherzi A parte gli scherzi Oggi partito nel ragazzo del nostro attacco a Portisimense visto poco Però fa fare un gol su rovesciata Che partita Vabbè 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 Eeeh Gran difesa a parte chi mi sa che si è rotto Problemino questo Guarda com'è guarda come toccano la perata Luciano Se si è parte dalla parte è più bella della partita Eeeh Comunque niente ragazzi Eeeh Continuiamo così forse Napoli sempre Ciao